La città è un organismo vivente, ma troppo spesso esistono due corsie differenti. Da una parte l'autostrada di quanti corrono comunque ipergarantiti, dall'altra le strettoie dei poveri e dei disoccupati, delle famiglie numerose, degli immigrati, di chi non ha qualcuno su cui contare. Con queste parole Papa Francesco ha colto in Vaticano i membri dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Ai tanti sindaci presenti il Pontefice ha chiesto di custodire la passione del bene comune e di frequentare le periferie, quelle urbane, quelle sociali e quelle esistenziali. Il punto di vista degli ultimi, infatti, è la scuola migliore per comprendere quali sono i bisogni più veri. Dinanzi ai comprensibili disagi di tanti cittadini per l'arrivo massiccio di migranti e rifugiati, Papa Bergoglio ha auspicato la promozione di spazi di incontro personale e di conoscenza mutua e una politica che sappia guardare con speranza al futuro, perché i sindaci devono avere la virtù della prudenza per governare, la virtù del coraggio per andare avanti e quella della tenerezza per avvicinarsi ai più deboli. La città di cui vorrei parlarvi riassume in una sola le tante che sono affidate alla vostra responsabilità. La città è una città che non ammette i sensi unici di un individualismo esaperato che dissocia l'interesse privato da quello pubblico. Non sopporta nemmeno i vicoli cecchi della corruzione, dove si annidano le piaghe della disgregazione. Non conosce i muri della privatizzazione degli spazi pubblici, dove il «noi» si riduce a slogan, all'artificio retorico che maschera l'interesse di pochi. Costruire questa città richiede da voi non uno slancio presuntuoso verso l'alto, ma un impegno umile e quotidiano verso il basso. Grazie a tutti.